E' un'ora anche in questo mercoledì mattina per approfondire tutte le notizie principali dall'Italia e dal mondo e anche, lo faremo tra pochissimo, per aprire una finestra sulla Lombardia. Oggi sotto i riflettori ve lo anticipo il tema della siccità che andremo anche a toccare con mano mostrando una situazione molto particolare e poi ovviamente ci sarà anche un ospite Skype e parleremo anche di politica e del tema dei migranti che continua ad accendere il dibattito politico. Andiamo subito però a dare uno sguardo a quelle che sono le aperture in questo momento dei principali mezzi di informazione a partire dall'Ansa che apre sul caso dell'evasione appunto. Nordio avvia un'azione disciplinare sui giudici. Il caso Uss concedere i domiciliari fu una grave e inscusabile negligenza. Domani alla Camera è prevista un'informativa urgente del Governo sulla vicenda. Ci sono poi in primo piano anche le parole di Papa Francesco che andiamo a leggere tra pochissimo. Abbiamo prima una persona in linea. Pronto o buongiorno? Pronto? E allora torniamo alle parole di Papa Francesco riportate appunto da L'Ansa. Non si deve mai uccidere in nome di Dio perché per lui siamo tutti fratelli e sorelle ma insieme si può dare la vita per gli altri. L'ho detto il Papa nell'udienza generale parlando dei martiri dei nostri giorni. Allora anche questo in apertura sull'Ansa. Andiamo a vedere invece l'apertura di Repubblica che è dedicata invece ad un'inchiesta sulla sanità. Quei 165 milioni per tagliare le liste d'attesa che le regioni non hanno speso. E si fa appunto poi un'analisi su questo e poi anche la politica. Matteo Renzi e il progetto al Senato per isolare Calenda, telefonate trattative, è partita la campagna acquisti per Italia Viva. E poi il caso appunto meno migranti più figli, no alla sostituzione etnica, Meloni e l'olobrigida shock. Andiamo a vedere anche l'apertura invece del Corriere della Sera. Anche in questo caso ampio risalto alla polemica nata dopo le parole di l'olobrigida, delle ministro l'olobrigida stop alla sostituzione etnica. Glein attacca parole da suprematista su governo.it condanna del mito neorazzista. Il ministro polverone contro di me, opposizioni all'attacco parole indegne. E la premiera da Milano, se manca la mano d'opera il problema non si risolve con i migranti, ma incentivando l'occupazione femminile e le politiche per le famiglie. Le parole che abbiamo sentito anche ieri in diretta dalla premier Giorgia Meloni, intervenuta all'inaugurazione del Salone del Mobile. In apertura però anche la questione delle emissioni zero, con una inchiesta di Milena Gavanelli sulle falsità degli fuel e dei biocarburanti, auto elettriche sorpassone le vendite meno care di quelle a benzina. Entro quattro anni, impatto negativo. Le batterie, dato positivo, durano dieci anni e i materiali sono riciclabili. Il video poi anche dedicato invece allo sport con la partita ieri tra il Napoli e il Milan finisce 1-1 e la squadra di Pioli a Proda in semifinale di Champions League sfiderà la vincente della partita di questa sera tra Inter e Benfica. Andiamo a vedere invece anche in fatto di temi economici l'apertura del Sole 24 Ore dedicata, come sempre in questo momento, anche alla situazione delle borse. Team scivolone in borsa dopo le nuove offerte per la rete e intanto anche un'analisi proprio su Team e al mercato servono decisioni coraggiose e dirompenti. Andiamo a vedere invece anche l'approfondimento sul tema della TV. Mediaset utile in calo ma conferma del dividendo a 5 centesimi per azione e le borse dell'Unione Europea sono in questo momento al palo. Si parla anche del mercato dell'auto. Il mercato dell'Unione Europea cresce a due cifre. A marzo più 26,1% di immatricolazioni. Queste appunto anche le notizie in apertura sul Sole 24 Ore. Andiamo a vedere invece anche l'ultima ora appena pubblicata dal Corriere del Ticino. Si parla della pandemia e dei test per il Covid-19 fatturati indebitamente. Berna intende fare chiarezza. Il Consiglio federale ha accolto le richieste della Delegazione delle Finanze e delle Camere federali. L'UFSP ha già avviato azioni penali concernenti i test fatturati in eccesso. Si tratta di importi nell'ordine di 1,8 milioni di franchi. Il Consiglio federale intende indagare sui casi sospetti di test Covid-19 fatturati indebitamente e recuperare le somme illecitamente percepite. Lo ha deciso nella sua seduta del 19 aprile 2023 accogliendo così le richieste della Delegazione delle Finanze e delle Camere federali. È stato realizzato un piano di lotta agli abusi e sono state effettuate analisi trasversali. Inoltre l'Ufficio federale della Sanità pubblica ha già avviato azioni penali concernenti i test fatturati in eccesso. Nel dicembre scorso la Delegazione delle Finanze e delle Camere federali aveva scritto al Consiglio federale per chiedere di raddoppiare gli sforzi al fine di scoprire e prevenire i pagamenti ingiustificati nel quadro della fatturazione dei test Covid-19. Nella sua risposta il Consiglio federale ha dato seguito alle richieste della Delegazione delle Finanze e ha affermato di essere determinato a esaminare i casi sospetti. L'Ufficio ha elaborato un piano di lotta contro gli abusi e in base ai risultati delle indagini esigerà il rimborso degli importi indebitamente fatturati. In questo contesto l'Ufficio federale di Sanità ha già presentato le sue prime decisioni concernenti alcune fatture ritenute ingiustificate. Si tratta di importi nell'ordine di 1 milione e 800 mila franchi. Inoltre ha già avviato alcune azioni penali e non esclude di intraprenderne altre in futuro. E allora queste le notizie in primo piano in questo momento anche sul Corriere del Ticino che poi invece dedica un approfondimento alla Cina che prepara un'unità di droni spia supersonici. Ancora rivelazione del Washington Post. Il drone all'avanguardia cinese potrebbe dare al paese un vantaggio di sorveglianza in un possibile confronto militare con Taiwan. Questi gli aggiornamenti appunto anche sul sito del Corriere del Ticino. Torniamo però al Corriere proprio per andare ad approfondire l'ennesima polemica nata all'interno del governo, della maggioranza di migranti. Appunto poi lo dicevo parleremo anche con un ospite per fare il punto su quello che sta accadendo con le discussioni, con le norme in discussione a Roma proposte dal governo. Lollo Brigida appunto le parole di ieri del Ministro che fanno discutere e fermare la sostituzione etnica. Schlein è un suprematista. Il Ministro parla di un polverone contro di me. Opposizioni all'attacco. Parole indegne. No alla sostituzione etnica. Dobbiamo pensare all'Italia di dopodomani incentivando le nascite. Queste le parole che stanno facendo discutere. Le parole pronunciate dal Ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollo Brigida, che hanno provocato la sollevazione unanime delle opposizioni. E allora continuiamo a leggere poi quelle che sono le polemiche sorte su queste parole. Ma intanto invece andiamo anche ad aprire il nostro collegamento. Allora ve lo dicevo oggi in primo piano il tema della siccità. E allora andiamo subito a Manerba del Garda da Caterina Zita. Esatto, buongiorno Anna, buongiorno a tutti. Noi dal Lago di Como siamo venuti sul Garda per parlare di siccità. Siamo qui con il sindaco di Manerba, Flaviano Mattiotti. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Noi siamo ovviamente venuti in un luogo simbolo. Un luogo che è diventato simbolo soprattutto nelle ultime settimane. Se non nell'ultimo mese, l'isola di San Biagio, anche detta l'isola dei conigli. Questa lingua di terra che l'ha fatta diventare più una penisola ultimamente. Ovviamente anche per colpa, a causa della siccità. Allora io le chiedo innanzitutto questo che momento è? Siamo già in una situazione differente rispetto a quella delle scorse settimane in cui abbiamo visto anche tanti turisti incuriositi che venivano in bicicletta o a piedi per raggiungere l'isola? Certo, buongiorno. Innanzitutto il lago è di qualche centimetro cresciuto. Un po' dovuto alle poche precipitazioni che ci sono state, allo scioglimento della neve e alla limitazione dell'uscita di acqua dal lago ad uso in riguo. Questo è stato un vantaggio. Il lago è cresciuto di una decina di centimetri. Come vedete alle mie spalle, l'ismo è leggermente sommerso. Speriamo nelle piogge di maggio che portino ulteriori centimetri d'acqua al nostro lago. Ecco perché ovviamente si parla di un inverno ovviamente non soltanto poco freddo ma anche con poche precipitazioni nevose, poca neve sulle montagne e questo dovrebbe essere poi il momento in cui la neve si scioglie, arriva più acqua anche nel lago e ovviamente l'estate invece si prospetta un'estate secca quanto meno come la scorsa che è già stata appunto un'estate che si è fatta ricordare per le temperature alte e per la poca pioggia. Però la questione della siccità, oltre ovviamente a vedere appunto questo punto, questo luogo simbolo, cosa vuol dire per questo territorio? Perché lei ha parlato di irrigazioni, quindi ha parlato di agricoltura, cioè è un'emergenza qui per voi dal punto di vista anche delle risorse idriche che vanno poi destinate all'agricoltura? Certo, se teniamo conto del fatto che mentre a febbraio il livello del lago saltuariamente raggiunge queste misure, è strano che queste misure siano mantenute anche nel mese di maggio, giugno, aprile come ne stiamo vivendo in questo momento. Quindi si prospetta una stagione irrigua molto difficile, so che comunità del Garda si sta occupando di questo problema, è intrattenuto degli incontri con i consorsi in rigui, cercheranno di limitare l'uscita dell'acqua del lago sul fiume Mincio, il minimo indispensabile per poter permettere l'irrigazione dei campi. Tenete conto che negli stati normali, nel pieno della stagione in rigua, escono circa 100 metri cubi di acqua al secondo, adesso siamo su 40 metri cubi al secondo, quindi un limite abbastanza tollerabile. Certo è che la stagione per i consorsi in rigui sarà complicata, per quanto riguarda il lago di Garda si vede già compromessa, però da un certo punto di vista per la stagione turistica non vedo particolari problemi, anzi invito i turisti a venire a vedere questo lago così basso che offre degli scorci che ad oggi non si sono mai visti. Ecco, non si sono mai visti, perché questa è un po' la domanda, perché appunto mi sono state segnalate, anche da chi vive in queste zone, degli anni, delle annate particolarmente complesse, il 1922, il 2002, insomma anni in cui il lago è arrivato a toccare dei minimi storici o dei record negativi simili, se non uguali, a quelli di oggi. Ecco, lei aveva mai visto anche l'isola di San Biagio in questa situazione, le era mai successo di passeggiare così come fanno alcune persone, come avete potuto vedere questa mattina? Certo, cicchiclamente succede ed fa parte della natura del lago di Garda, è strano che a maggio ci sia ancora questa situazione che vediamo. Tecnicamente, tarda estate e autunno e inverno sono i mesi dove l'acqua è più bassa e dove si può approfittare di poter raggiungere l'isola di Coniglia attraverso l'izmo a piedi. Difficilmente questo succede in primavera, è una delle prime volte a mia conoscenza, quindi è un campanello d'alarme per il problema di cui stiamo parlando. Ecco, esatto, perché noi cerchiamo anche di spiegare un fatto, si dice anche impropriamente che il lago sia in secca, il lago non è in secca, il lago è qualche centimetro più basso rispetto a una soglia che è stata definita la media, però di acqua ce n'è tanta, se si pensi soltanto che i metri cubi di acqua che vengono destinati all'agricoltura sono 900 milioni, quindi di acqua ce n'è, sebbene ce ne sia meno e soprattutto se ne aspetti, è meno quella che si attende in discesa dalle montagne e dai fiumi. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il lago di Garda ovviamente dà acqua alle persone e all'agricoltura, anche alle persone sebbene in una minima parte. C'è un rischio anche per l'uso e il consumo idrico umano? No, anche io sono a conoscenza del fatto che per il consumo idropotabile non ci sono conseguenze di sorta se non alcune necessità di rivedere i punti di pescaggio ma non ci sono problemi di sorta né adesso né ci saranno perché i punti di pescaggio sono molto in profondità, la qualità dell'acqua è comunque molto buona del lago di Garda e non ci sono particolari problematiche. Ecco, perché se riusciamo con lo sguardo e magari anche con la telecamera ad arrivare oltre l'isola di San Biagio vediamo l'isola del Garda che è peraltro un luogo dove il lago arriva particolarmente in profondità perché quanto è profondo? Sì, proprio di fronte all'isola del Garda c'è uno dei punti più profondi del lago di Garda che raggiunge circa 300 metri, quindi parliamo di un quantitativo di acqua veramente enorme se teniamo conto che un centimetro di acqua del lago di Garda sono circa 4 milioni di metri cubi di acqua capiamo che qualche centimetro o più o meno non fa una grande differenza né per l'apprezzamento del paesaggio né per le risorse idropotabili degli abitanti di tutto il comprensorio del lago di Garda. E questo ovviamente anche per spiegare che la geografia di questo bacino, di questo territorio in questo particolare punto e quindi appunto la spiaggia davanti all'isola di San Biagio è anche un po' per sua natura soggetta a questo cambio nel livello dell'acqua e quindi creare poi scenari come quelli che noi stiamo guardando e osservando questa mattina. Davanti a noi un campeggio, abbiamo parlato di turismo abbiamo parlato di un interesse mediatico per questa situazione di rimbalzo però il turismo ne ha risentito positivamente sono stati tanti visitatori, lei mi diceva, che sono arrivati qui anche durante le vacanze pasquali le chiedo quindi come sta andando e se c'è una sorta di preoccupazione nel pensare che poi questa località sia diventata famosa anche forse un po' impropriamente parlando di siccità, parlandone magari a volte non nel modo più corretto ecco, lei che cosa si sente di dire al riguardo? Allora, la stagione a Pasqua è andata benissimo prima di Pasqua c'è stato un incremento di turisti dovuti alla mediaticità di questo evento seppur allarmante della siccità ma comunque ha portato un ottimo riscontro e conoscenza sul territorio noi abbiamo tantissimi turisti mordi e fuggi abbiamo una buona quantità di turisti che alloggiano nelle strutture la nostra cittadina è pronta ad accogliere i turisti anche fuori stagione perché comunque siamo attrezzati alle numerose persone che vengono nelle domeniche d'estate a prendere il sole al nostro lago quindi grosse criticità non ce ne sono state siamo molto contenti dell'afflusso turistico anche se questi turisti sono venuti per vedere un elemento di criticità che è stato portato a conoscenza di molti tramite i media la stagione si prevede buona le prenotazioni sono ottime la prova del 9 l'avremo tra qualche settimana nella Pentecoste settimana in cui il lago è frequentatissimo da turisti tedeschi come dicevo le prenotazioni sono più del solito tenete conto che il nostro paese ha fatto circa 800.000 presenze l'anno scorso e speriamo di poterle superare perché i paesaggi che si possono vedere e godere dal nostro lago sono veramente meravigliosi ecco essendo ovviamente questo un lago navigabile essendo la navigazione parte anche poi dell'attrazione delle attrattive turistiche il fatto che rischi di esserci sempre meno acqua è un problema anche per la navigazione ci sono state delle modifiche anche magari alle rotte navigabili del lago? Per quanto riguarda le rotte di navigazione del Navigarda non ci sono stati nessun tipo di limitazione per quanto riguarda la navigazione privata altrettanto noi siamo in costante collegamento con l'autorità di Bacino che si occupa della parte demagnale del lago di Garda qualora dovessero esserci delle piccole criticità all'interno dei porti privati, dei porti pubblici, degli scivoli di Alagio siamo pronti a intervenire con dei dragaggi per consentire al turista di godere appieno del nostro lago anche con qualche centimetro in meno d'acqua Quindi insomma anche la navigazione non si fermerà ma si troveranno degli strumenti perché poi mi sembra di capire che anche per quanto riguarda la siccità e l'utilizzo delle risorse idriche quello che si chiede anche al governo e ma in generale all'organizzazione poi di tutto il paese è un efficientamento quindi cercare di sfruttare meglio l'acqua di perderne il meno possibile ma allora le chiedo dato che poi la questione della siccità anche della siccità in Lombardia in generale è arrivata a Roma, è arrivata al governo abbiamo parlato di un commissario straordinario praticamente permanente ecco le chiedo siete in contatto costante anche con la regione siete in contatto costante con magari il governo per continuare a parlare di siccità e trovare anche delle soluzioni pratiche con la regione siamo in costante contatto anche tramite gli enti che si occupano principalmente dei livelli del lago di Garda che è la comunità del Garda per il commissario ho sentito e non ho sentito parlare dell'istituzione speriamo che metta tutti a un tavolo rotondo per poter fare un ragionamento a 360 gradi perché le azioni che si intraprenderanno domani saranno azioni che si proterranno per il futuro quindi mi auguro che vengano coinvolte anche le autorità locali che sono a conoscenza di piccoli problemi che possono portare a grandi soluzioni ecco ma le chiedo le faccio un'ultima domanda secondo lei la situazione in cui ci troviamo adesso insomma una siccità di cui parliamo ormai da oltre un anno perché già dalla scorsa estate ci eravamo resi conto che appunto stavamo andando verso uno scenario differente è anche prevedibile quello appunto che oggi possiamo constatare ecco secondo lei ci si è mossi anche in ritardo per quanto riguarda organizzare un tavolo iniziare realmente a parlare di misure per contrastare l'emergenza idrica ecco siamo arrivati già troppo tardi o no? se devo io sono estremamente ottimista se devo dirla tutta si spera sempre nelle piogge primaverili e nello scioglimento delle nevi avevamo già avuto un campanello d'allarme delle poche nevicate ma non eravamo a conoscenza del fatto che le piogge primaverili fossero così esigue non sarebbero arrivate se non sarebbero state troppi risicate quindi posso capire il tentennamento dell'organizzare un tavolo di organizzare un commissario straordinario perché si aspettava il risultato delle piogge certo è che le soluzioni da porre in atto immediate ci sono per poter risparmiare un po' di risorsa idrica e dopo a un più lungo margine ci saranno degli attrementi strutturali da fare che porteranno davvero dei benefici anche se io mi auguro e spero che questa nonostante il cambiamento climatico che tutti noi conosciamo sia una stagione straordinaria e non ordinaria ecco allora le faccio un'ultimissima domanda perché mi è venuta una curiosità ai cittadini che cosa le dicono? le scrivono? le chiedono? le chiamano? le fanno sapere anche magari le loro di preoccupazione? oppure ecco perché noi appunto abbiamo fatto vedere spesso le immagini la stampa è venuta praticamente tutta a riprendere anche queste immagini abbiamo visto tanti curiosi ma il cittadino che vive questi territori magari da tanti anni magari appunto ha avuto modo anche di vedere crisi del passato come quella citata dei primi anni 2000 a lei che cosa riferiscono? beh i cittadini sono consapevoli della problematica ma non preoccupati mi chiedono principalmente se ci saranno interventi durante i periodi più caldi con ordinanze di limitazione dell'uso dell'acqua potabile come da qualche anno questa parte viene fatto solitamente queste restrizioni non riguardano le attività turistiche ricettive perché ovviamente dobbiamo dare un servizio di alta qualità al turista che viene sul nostro territorio ci chiedono di intervenire con la sistemazione delle spiagge nei punti dove il calo dell'acqua mette in mostra sassi non un manto omogeneo della spiaggia ma sono diciamo richieste minori grosse preoccupazioni non ne rilevo quindi insomma c'è un po' anche una preoccupazione per come si sa dire per il bello per l'acqua che poi diamo per scontato che esca sempre con lo stesso flusso dai rubinetti però effettivamente come ha detto lei il cambiamento climatico quantomeno la direzione che sta prendendo il clima nel nostro paese è evidente fa già caldo piove poco quindi questo è anche il risultato appunto di questioni ambientali ben più amiche e ben più complesse io la ringrazio noi sicuramente ci ricollegheremo con voi e cercheremo anche ovviamente di come avete potuto vedere passeggiare camminare attraverso questa lingua di terra che ha creato non più un'isola ma una penisola la persona che ci è appena passata accanto non so se siete riusciti a vederla aveva una bicicletta quindi insomma anche il turismo in questo particolare punto è più che vario noi ci ricollegheremo con voi la ringrazio ancora sindaco grazie a voi buona giornata grazie torneremo da te ovviamente tra poco intanto torniamo appunto anche a quelli che sono gli ultimissimi aggiornamenti lo abbiamo detto in primo piano sull'Ansa il caso Us con la decisione del ministro Nordio di avviare un'azione disciplinare sui giudici concedere i domiciliari fu una grave e inescusabile negligenza domani alla Camera un'informativa urgente del governo sulla vicenda ci sono però anche altri aggiornamenti andiamo a leggere le parole di Calderone non si trova un milione di lavoratori andiamo a leggere anche i dettagli di questa notizia proprio appena pubblicata dall'Ansa oggi probabilmente abbiamo un milione di posti di lavoro che non riusciamo a coprire mentre abbiamo tante persone che sono fuori dal circuito lavorativo e quindi dall'impegno attivo nel mondo del lavoro lo afferma la ministra del lavoro Marina Elvira Calderone al forum di Confcommercio guardo con grande interesse a una stagione da protagonista dei corpi intermedi nello Stato credo che si debba tornare a un forte protagonismo delle associazioni datoriali e delle associazioni sindacali aggiunge appunto il ministro del lavoro il 2025 potrebbe essere il primo anno scolastico del liceo del Made in Italy nell'auspicio del ministro delle imprese e Adolfo Urso è importante istituirlo con la legge quadro sul Made in Italy poi ci sarà il lavoro di programmazione con le regioni per arrivare mi auguro già nel 2025 a che ci possa essere un liceo del Made in Italy innanzitutto nei distretti industriali italiani dice Urso al forum di Confcommercio entro un mese presenterò in consiglio dei ministri il collegato alla manovra sul Made in Italy che interverrà anche sulla formazione delle competenze che servono al mercato del lavoro e alle imprese attraverso questo liceo aggiunge sul disegno di legge sulla concorrenza credo sia una questione di ore il confronto con la Commissione Europea si è concluso positivamente queste ancora le parole del ministro appunto in corso il forum di Confcommercio nel quale appunto si stanno trattando anche questi temi cambiando argomento però lo dicevamo e ne parleremo poi anche tra poco con un ospite in primo piano ancora il tema dell'emergenza migranti ancora sbarchi a Lampedusa e Alarmphone parla di 100 persone in pericolo allora andiamo a vedere le ultimissime informazioni durante la notte scorsa 33 tunisini tra cui 7 donne e 8 minori sono sbarcati a Lampedusa dopo che l'imbarcazione di 6 metri sulla quale viaggiavano è stata soccorsa dalle motovedetta CP273 della Guardia Costiera su una delle imbarcazioni soccorse c'era anche il cadavere di un giovane all'hotspot di contrada imbriacola sono al momento presenti 640 migranti in mattinata è stato disposto dalla prefettura di Agrigento il trasferimento di 127 persone che in serata giungeranno a Porto Empedocle durante la notte scorsa 33 tunisini tra cui 7 donne e 8 minori sono sbarcati a Lampedusa dopo che l'imbarcazione di 6 metri sulla quale viaggiavano è stata soccorsa ieri sull'isola ci sono stati 6 sbarchi con un totale di 286 persone ma andiamo a sentire invece ancora un'altra voce dal lago di Garda Anna sì abbiamo parlato di visitatori abbiamo parlato di curiosi lo abbiamo fatto anche con il sindaco siamo qui con il signor Gian Mario buongiorno lei da dove arriva? da Brescia è venuto qui incuriosito dalla situazione perché ha visto le foto magari sui siti di informazioni online ha deciso di vedere con i suoi occhi sì proprio per questo motivo volevo raggiungere l'isola ma adesso non è ancora praticabile se non si hanno degli stivali così normalmente non si può più andare ecco appunto perché l'abbiamo detto oggi l'ha spiegato anche il sindaco oggi il livello del lago si è alzato di qualche centimetro il che vuol dire che la lingua di terra in qualche modo è lambita anche poi dalle acque per cui se non si hanno gli strumenti adatti ci si bagna quindi non si può più arrivare come magari nelle scorse settimane si è visto con veramente flussi di turisti code di turisti in fila per arrivarci ecco ma io le chiedo oltre la curiosità c'è anche un po' di preoccupazione ci si fanno delle domande lei in qualche modo si è fermato anche a riflettere guardando questo che comunque è un panorama bellissimo la preoccupazione c'è non solo per il lago di Garda ma in generale perché veramente le precipitazioni sono crollate non è più come un tempo dove in questa stagione regolarmente c'erano delle perturbazioni piogge mentre adesso veramente c'è c'è da pensare ecco quindi sentire anche che il dibattito si è ampliato è arrivato appunto a Roma in Italia non si parla più soltanto dei laghi lombardi ma si parla in generale del clima italiano in qualche modo per lei confortante o crede che si sia già arrivati un po' in ritardo rispetto poi a quello che è già un problema è già dalla scorsa estate beh siamo già in estremo ritardo sono vent'anni che ci sta parlando della crisi idrica e che ci saranno nel futuro guerre per l'acqua quindi spero che si inizi a fare qualcosa io la ringrazio e Anna noi vi restituiamo la linea poi noi appunto cercheremo di attraversare non bagnandoci troppo appunto questa lingua di terra così per farvi vedere anche dall'altro lato che cosa si vede però vi aggiorneremo perché anche noi dobbiamo arrivare a capire quanto è profonda l'acqua e quanto è difficile attraversarla oggi grazie allora torneremo da te tra poco stavamo appunto vedendo gli ultimissimi aggiornamenti anche sul tema degli sbarchi dell'emergenza migranti e c'è appunto una nuova allerta di Alarm Phone in centro rischiano di affondare sarebbero persone in pericolo su un gommone a largo della Libia la chiamata è stata ricevuta da Alarm Phone hanno detto che la loro imbarcazione sta affondando e temono il peggio fa sapere il servizio telefonico finora giunge non siamo riusciti a contattare la cosiddetta guardia costiera libica su nessuno dei loro numeri bisogna inviare i soccorsi ora sono almeno 15 intanto i migranti tunisini dispersi in seguito al naufragio dell'imbarcazione sulla quale viaggiavano avvenuto nella notte di lunedì altre quattro persone che si trovavano sulla stessa barca sempre tunisine sono state salvate da un pescatore lo ha reso noto il portavoce della Guardia Nazionale di Tunisi precisando che proprio i sopravvissuti hanno raccontato che la barca aveva iniziato a imbarcare acqua la notte del 17 aprile la stessa fonte ha aggiunto che moto vedette un elicottero stanno setacciando l'area alla ricerca dei dispersi è arrivata intanto alle 8 al porto di Marina di Carrara la nave life support di emergency con 55 migranti soccorsi il 15 aprile scorso nel Mediterraneo centrale tra loro secondo quanto spiegato da emergency 49 adulti di cui 3 donne 3 bambini e 3 minori non accompagnati e allora questi anche gli ultimissimi aggiornamenti in materia di sbarchi e purtroppo ancora anche di drammatici naufragi ma di migranti parleremo ancora tra pochissimo con un ospite subito dopo la pubblicità bentornati ai TG più today e allora prima di andare anche con ah no vedo già collegato l'ospite allora do subito il benvenuto a Stefano Cambiani buongiorno 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 a voi gli ascoltatori deputato della Lega e allora lo dicevamo anche prima della pubblicità e di nuovo in primo piano se ne sta parlando ancora il tema dei migranti da un lato con il ragionamento sullo stato di emergenza e dall'altro anche con quello che sta facendo discutere su provvedimenti da cancellare norme di nuovo da reintrodurre che richiamano anche al decreto Salvini allora intanto qual è la situazione? la situazione è quella che stiamo mettendo a mano alle regole che sono state modificate dal 2018 quando il ministro era Salvini con i decreti di sicurezza sono state modificate durante il governo Ponte 2 quindi con il ministro Lamorgese e il partito democratico con i 5 stelle ecco in quel governo con un decreto in particolare che era il decreto 130 del 2020 la ministra Lamorgese modificò l'impostazione della protezione sostanzialmente un omnibus che viene utilizzato per chiunque acceda al nostro territorio in maniera irregolare questo ovviamente ha portato a un sovraffollamento e certamente a una difficoltà a gestire i flussi irregolari e quindi vogliamo ripristinare quello stato di correttezza di serietà che deve garantire ovviamente ospitalità e asilo a chi fugge da guerre e a chi ha condizioni come quelle delle protezioni internazionali che ovviamente siamo i primi a volere ospitare però ovviamente deve essere chiaro che chi viene da paesi che nulla hanno a che fare con una guerra e viene in Italia in maniera irregolare questo paese non ci può stare con regole come quelle modificate dalla Morgese quindi con la nuova impostazione data al governo PD 5 Stelle alla cosiddetta protezione speciale sostanzialmente chiunque mette piedi in Italia ottiene un permesso di soggiorno e questo ovviamente produce poi numeri insostenibili ecco la protezione speciale però secondo molti è una forma di tutela indispensabile ricordiamolo una sorta di permesso di soggiorno della durata di due anni rinnovabile che viene rilasciato al richiedente asilo che non abbia altri titoli per ottenere appunto l'accoglienza in Italia per molti è una situazione è un provvedimento indispensabile e abolirlo significa di fatto di nuovo costringere tantissime persone alla clandestinità e quindi di fatto ancora una volta a creare ulteriori difficoltà qual è la vostra risposta? No che non è assolutamente così innanzitutto il clandestino bisogna essere chiari chi entra in maniera clandestina nel nostro paese non può avere automaticamente un benestare a restarci perché sennò veramente non c'è più regola e siamo ancora torniamo all'anarchia degli anni in cui Renzi governava ecco tenete conto che adesso mettiamo a mano sono passati pochi mesi da quando si è insediato il governo ma stiamo già mettendo mano a queste regole quando diciamo che vogliamo ripristinare le regole dei decreti sicurezza fatti da Salvini vogliamo ritornare esattamente a quella condizione cioè a ridurre a limitare fino proprio alla compressione massima qualsiasi fattore di attrazione che oggi l'Italia ha rispetto all'immigrazione clandestina e alle azioni degli scafisti faccio solo un esempio la disgraziata vicenda della nave della barca che è andata poi a schiantarsi a Cutro che è affondata Cutro racconta di una imbarcazione che parte dalla Turchia attraversa il Mediterraneo orientale ma non si ferma in Grecia che peraltro è paese dell'Unione Europea arriva fino alle coste italiane della Calabria questo perché in maniera molto semplice ovviamente le regole che vigono in Grecia piuttosto che in Spagna che è un altro paese che subisce immigrazione rispetto a quello che è il presupposto di arrivare in Italia fino a un numero che poi i numeri raccontano tutto cioè in questo momento se stiamo proprio a tiriamo la sticella oggi in Spagna sono sbarcati più o meno 4.800 migranti in Grecia più o meno 4.000 in Italia siamo già sopra i 32.000 questo avviene proprio perché le regole modificate ripeto col decreto 130 ministro Lamorgese fanno diventare l'Italia il posto ideale per portare i migranti clandestini perché poi ottengono questo permesso di soggiorno che come lei ha specificato copre praticamente tutte le fattispecie senza alcuna possibilità di mandare indietro nessuno e dopo questa immigrazione diventa sostanzialmente un peso a carico degli italiani senza alcuna possibilità di sbocco peraltro in attività lavorative chiudo veramente il ragionamento con un altro numero cioè quando il ministro era Bellanova l'allora governo fece una scelta che fu quella di emanare una sorta di sanatoria si aspettavano che emergessero circa 500.000 immigrati clandestini che chiedessero regolarizzazione le domande presentate furono circa 200.000 quelle accolte perché avevano dei requisiti e quindi sono stati inseriti nel mondo lavorativo meno di 10.000 questo racconta quindi che il postulato maggiori maglie più larghe più permessi di soggiorno non si trasforma in permessi di lavoro ma si trasforma realmente in clandestinità e tutti quelli che sono entrati negli anni passati che oggi sono clandestini lo dobbiamo ovviamente a queste regole sciagurate che non mettono alcun limite all'immigrazione clandestina in Italia questo ovviamente è quello che vogliamo smontare ecco lei ha fatto riferimento anche ad altri paesi europei facendo un confronto tra l'altro c'è scontro anche su quali effettivamente siano le regole negli altri paesi europei ognuno propone versioni diverse al di là appunto delle differenze non sarebbe ancora una volta ancora si riporta in primo piano il tema di una posizione comune a livello europeo una gestione comune a livello europeo di questa situazione ma guardi sì lei ha messo il dito in un punto che è assolutamente focale noi non siamo nella maggioranza che governa in questo momento l'unione europea il partito democratico sì è chiaro che all'interno dell'Europa ci sono posizioni variegate però c'è una maggioranza politica che decide ovviamente la politica migratoria e come affrontarla e ormai sono più di dieci anni che ci troviamo ad affrontare l'immigrazione solamente dal punto di vista italiano senza che ci sia un'azione comune europea né nel respingimento né nella distribuzione ancora una volta e qui punto veramente il dito ci ricordiamo che nel settembre del 2020 vennero fatti degli accordi a Malta ancora ministro Lamorgese col governo PD 5 Stelle con cui veniva dato per scontato quindi la ridistribuzione su base volontaria negli altri paesi europei ecco sappiamo benissimo che ciò si è tradotto nella misura di poche centinaia di migranti ridistribuiti negli altri paesi europei mentre tutti gli ingressi nell'ordine delle decine di migliaia l'anno scorso sono stati più di centomila avvenuti in Italia restano in carico alla gestione italiana con costi che superano il miliardo di euro allora è evidente che questa non occuparsi a livello europeo ha creato una condizione per la quale o nei prossimi mesi nelle prossime settimane ci sarà veramente una presa di coscienza da parte dell'Unione Europea oppure l'Italia chiaramente deve badare a se stessa e quindi mettere dei freini dei vincoli come quelli che noi stiamo perorando e su cui stiamo facendo l'azione parlamentare di emendamento perché altrimenti il peso diventa realmente insostenibile peraltro facendo anche una politica sbagliata rispetto a chi viene dalla guerra veramente a chi emigra perché vede se io prendo in questo momento i dati che vengono al Ministero Interno lo prenderò più istantaneo quello di oggi è un sito pubblico interno.gov.it dice che in Italia sono sbarcati 5.697 ivoriani quindi costa d'Avordio 4.300 vengono dalla Guinea 3.800 pakistani 3.400 egiziani Tunisia 2.700 Bangladesh 2.600 siamo alla settima nazionalità e nessuno di questi paesi è in guerra poi arriviamo ai siriani che sono 1.700 cioè 1.700 rispetto ai 100.000 dell'anno scorso di che stiamo parlando stiamo parlando di una gran quantità che nulla ha a che fare con chi fugge da guerre o con chi viene in Italia e cerca protezione e rispetto a discriminazione quello che invece è avvenuto ripeto modificando come ha fatto il PD le leggi sul permesso speciale è di dare un permesso di soggiorno sostanzialmente a tutti tutti quelli che arrivano il che è insostenibile le volevo fare un'ultima domanda più politica vabbè in queste ore stiamo leggendo anche della polemica sollevata dalle parole del ministro Lollobrigida sulle parole di sostituzione etnica ovviamente questo è un tema ma è un tema anche più ampio c'è coesione all'interno della maggioranza proprio su questo tema dei migranti arriverete a una posizione comunque unitaria? ma guardi questa è una polemica proprio che si si commenta da sé perché è fatta andando a guardare gli aspetti lessicali possono essere felici o infelici le parole possono essere anche qui politicamente corrette giudicate in una maniera scorretta eccetera però il merito dell'argomento è ineludibile cioè quello che Lollobrigida ha fatto presente è attenzione perché quello che accade poi è una sostituzione degli italiani con mano d'opera a basso costo che viene dall'altra parte del mondo e questa cosa è oggettivamente una cosa sbagliata cioè attenzione perché il fatto che si dica poi che questi vengono in Italia e ritorna il reframe che fa un po' ridere che sono quelli che ci pagheranno le pensioni fino a prova contraria in questo momento sono gli italiani che stanno pagando un miliardo di euro nella gestione del sistema accoglienza tutto vogliamo tranne che rimettere in piedi un meccanismo che sia poi quello delle varie gestioni come quelle fatte alla Suma Oro che hanno creato scandalo nelle scorsi mesi o quelle fatte negli anni passati da Lucano Partito Democratico anche quello comunque in sinistra che sono finite sotto le indagini della magistratura con tutte le conseguenze che sappiamo di mala gestione legata all'immigrazione insomma polemiche strumentali per deviare l'attenzione rispetto a un problema che è reale e badate bene col decreto di flussi che sono un canale che noi abbiamo sempre considerato come il canale principale si stabiliscono coloro che possono venire in Italia sono circa 20.000 all'anno per lavorare perché richiesti dalle nostre imprese quando poi ci sono domande richieste nell'ordine delle centinaia di migliaia ma come spiegavo prima nel caso delle azioni fatte col governo PD 5 Stelle con il ministro Bellanova e compagnia si traducono poi in poche decine di migliaia coloro che entrano nel meccanismo regolare del lavoro ad esempio in agricoltura e significa che quelli che portiamo qui poi non hanno alcuna possibilità o perché non ne sono ovviamente titolati o perché proprio non gli interessa regolarizzarsi di entrare in un meccanismo che li metta al lavoro e quindi sono oggettivamente un problema che resta poi sulle spalle degli italiani e allora io ringrazio davvero Stefano Candiani torneremo ad aggiornarci anche su questo tema con piacere buon lavoro la ringrazio a presto e allora mi scuso per l'attesa avevamo una persona in linea non so se è ancora in linea no ovviamente è caduta la linea nel frattempo e allora prima di continuare anche andiamo a vedere qual è la situazione delle strade in Lombardia con la nostra rubrica in collaborazione con Anas partiamo dalla strada statale 38 dello Stelvio segnalato traffico rallentato per lavori di manutenzione all'incrocio di Sondrio andiamo poi sulla strada statale 343 a Solana traffico rallentato per lavori di manutenzione dopo l'incrocio San Giovanni in croce e prima dell'incrocio Piedena con la strada statale 10 Padana inferiore e ancora sulla strada statale 461 del Passo del Penice segnalata una corsia chiusa per lavori all'incrocio tra Bobbio e la strada statale 45 della Val di Trebbia aggiornamenti ulteriori sono sempre disponibili sul sito www.stradeanas.it oppure chiamando il numero verde pronto Anas 800 841 148 e allora questa anche la situazione della viabilità torniamo ad un aggiornamento ancora con l'Ansa che in questo momento mette in primo piano il monito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'Europa testimoni di crimini non inseguire le scelte altrui andiamo a vedere le parole proprio del capo dello Stato nessuno può restare indifferente di fronte alla brutale aggressione della Russia contro l'Ucraina un paese sovrano libero democratico la cui popolazione è oggetto di attacchi mirati e criminali che uccidono con ferocia prendendo di mira senza scrupoli le infrastrutture civili ucraine per lasciare la popolazione al gelo e al buio oggi l'Europa è testimone di crimini frutto di una rinnovata esasperazione nazionalistica che pretende di violare confini di conquistare spazi territoriali accampando la presenza di gruppi di popolazione appartenenti alla stessa cultura lo ha detto il presidente Sergio Mattarella da Cracovia oggi ricorre l'ottantesimo anniversario della rivolta del ghetto di Varsavia la memoria di quelle barbarie rimane indefettibile nelle nostre menti e nei nostri cuori sono grato alla Polonia per l'incessante impegno per preservare e diffondere la memoria di quel che avvenne affinché non possa più ripetersi anche l'Italia è votata questa causa dobbiamo intensificare la nostra azione sapendo che in futuro potremo contare sempre meno sulle testimonianze dirette di quanto avvenuto e che dovremo trasmetterle e affidarle alle nuove generazioni pronunciare queste parole in una università a tempio che tramanda sviluppa e diffonde la conoscenza implicitamente affida a voi giovani la responsabilità del ricordo queste sempre le parole di Sergio Mattarella con lucidità va compreso che proporsi di salvaguardare la pace fra le nazioni affrontare i rischi globali che interpellano tutto il mondo missione da cui colpevolmente ci allontana oggi la furia bellicista russa significa anzitutto respingere la tentazione della frammentazione della solidarietà fra paesi liberi cementata nell'esperienza dell'alleanza atlantica e dell'unione europea sicurezza europea e sicurezza euroatlantica sono concetti indivisibili per potersi difendere insieme con determinazione e per garantire sviluppare il modello democratico e sociale europeo per l'unione europea ogni giorno è un banco di prova ma sarebbe del tutto inadeguato pensare a un'Europa frutto dell'affannosa rincorsa ad affrontare problemi dettati da altri in un quadro internazionale deciso da altri in altri termini l'esigenza di fare dell'Europa una protagonista non trova adeguata risposta nella visione di un'unione come somma temporanea e mutevole di umori e interessi nazionali quindi per definizione perennemente instabile andiamo a vedere ancora le ultime parole proprio del capo dello Stato l'Unione europea ha svolto una preziosa funzione sull'altro fronte che caratterizza i confini del continente quello mediterraneo ed africano l'attenzione richiamata anni fa dinanzi all'energere di fenomeni di terrorismo islamista lascia oggi luogo a una negligente e pericolosa distrazione quello del confine mediterraneo è tema che non riguarda solo i paesi europei che vi si affacciano l'obiettivo di un partenariato più solido e fecondo tra Unione europea e Unione africana è una scelta lungimirante in grado di anticipare tensioni e di contribuire alla causa della pace e allora queste le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella in visita in Polonia lo abbiamo visto questo l'intervento questa mattina in un'università a Cracovia e allora prima di continuare con le notizie torniamo però anche a Manerva del Garda sì Anna innanzitutto vi vorrei far vedere ovviamente prima abbiamo parlato con alcuni visitatori alcuni curiosi alcuni come potete vedere alle mie spalle si sono levati le scarpe perché questa è la situazione di oggi ovvero l'acqua si è alzata il livello dell'acqua si è alzato per cui non è più così facile camminare e raggiungere l'isola di San Biagio quindi appunto chi per non bagnarsi si leva le scarpe chi appunto se ne frega e passa comunque chi ci arriva in bicicletta però questa è un po' la situazione che possiamo osservare oggi però io a proposito di dati e di livelli dell'acqua vi vorrei anche leggere una ricerca è uscita da poco la notizia è stata quindi ribattuta da diversi canali di informazione online il lago di Garda ha il suo minimo storico dal 1953 si parla anche del fiume poi il fiume più lungo d'Italia che ha raggiunto il livello più basso mai registrato in aprile mentre il livello dell'acqua appunto come detto del lago di Garda il più grande lago italiano mostra in questa immagine di Copernicus un'immagine che perdonatemi voi non la potete vedere ma è un'immagine dall'alto del 16 aprile un crollo del livello dell'acqua al livello più basso dal 1953 un calo che pone l'acqua del Garda a soli 45,8 cm sopra lo zero idrometrico rispetto alla media di 70 anni di 109 cm quindi lo avevamo detto l'acqua è quasi il livello dell'acqua è quasi dimezzato non è facilmente percepibile non si può percepire questo calo ovunque questa in particolare è una zona dove l'acqua tende sempre il livello dell'acqua tende sempre ad oscillare questo ci è stato spiegato però insomma i dati che anche oggi vengono appunto diffusi sono quantomeno allarmanti e critici e poi si continua in quanto serbatoio d'acqua dolce è fondamentale l'attuale capacità del lago di Garda mette a rischio la sua capacità di sostenere l'agricoltura e questo lo abbiamo detto anche noi ne abbiamo parlato anche con il sindaco e poi le comunità locali il turismo e la navigazione insomma i dati di oggi continuano a far rimbalzare le immagini che noi vi stiamo mostrando in questo momento continuano a far parlare dell'emergenza siccità non soltanto qui sul lago di Garda ma un po' in tutta la Lombardia noi conosciamo bene la situazione del lago di Como ormai da oltre un anno a questa parte io quindi cercherò di raggiungere il punto per me più estremo date le mie scarpe i miei strumenti che oggi ho a disposizione e ovviamente cercherò anche di farvi vedere qualche immagine in più da più vicino e per adesso è tutto grazie Caterina e continuo a far discutere anche il caso dell'Orsa l'Orsa che ha ucciso il runner in Trentino che è stata catturata lo abbiamo letto ampiamente ieri catturata due notti fa appunto e allora emergono anche dettagli mentre continua il dibattito la polemica sulla ordinanza di abbattimento dell'Orsa JJ4 e intanto allora andiamo a vedere dal Corriere della Sera come è stata catturata la squadra cattura insieme a due veterinari lunedì sera ha intrappolato l'esemplare dopo dieci giorni di ricerche e monitoraggi non a caso si parla di operazioni certosine e delicate per catturare un plantigrado bisogna procedere per gradi e non è sempre facile soprattutto in una zona come quella appunto in cui è stata catturata tra la Val di Non e la Val di Sole dove si muovono una ventina di esemplari il corpo forestale deve studiare gli spostamenti di ognuno riconoscere il plantigrado che deve essere catturato e agire con cautela la squadra cattura insieme a due veterinari lunedì sera ha intrappolato l'orsa JJ4 dopo dieci giorni di ricerche e monitoraggi grazie a una gabbia allestita con frutta è stata la nota golosità dei plantigradi a tradire JJ4 all'interno c'erano mele e mais di cui gli orsi sono molto ghiotti i plantigradi sono dotati di un olfatto particolarmente sviluppato e riescono anche da lontano a percepire profumi e odori per questo l'orso viene attirato in modo graduale verso la gabbia attraverso del cibo che viene lasciato lungo il percorso questa tecnica spiegano dagli uffici della provincia viene utilizzata dai forestali anche per il consueto monitoraggio degli esemplari e per l'applicazione del radiocollare serve però molta prudenza e cautela se infatti nella trappola tubo viene inserito troppo cibo c'è il rischio che la gabbia attiri più orsi e questo mette a rischio anche la sicurezza degli operatori lunedì JJ4 che ha dimostrato di essere anche un po' diffidente nei giorni scorsi si era già avvicinata due volte è entrata nella trappola tubo che è dotata anche di un sacchettino legato da una cordicella e riempito di cibo molto gustoso l'orsa ha afferrato il sacchetto per mangiare e ha fatto scattare il meccanismo che l'ha bloccata all'interno ma c'è un altro elemento che ha aiutato la professionalità della squadra cattura un folto gruppo formato da persone molto esperte e preparate ognuno ha un compito ben preciso coordinato dal dirigente del servizio Foreste Giovanni Giovannini le femmine a differenza dei maschi sono stanziali e abitudinarie i forestali avevano quindi individuato l'area non troppo lontana dal luogo dell'aggressione dove si stava muovendo JJ4 e così sono riusciti a circoscrivere la zona e a stringere il cerchio attorno all'esemplare che era dotato di radiocollare ma non funzionava un guasto pare ma in realtà radiocollare non è sempre uno strumento efficace perché in alcune aree soprattutto in quota o molto boschive non c'è sufficiente copertura ci sono zone buie così accade anche con le fototrappole dove non c'è un aiuto da parte della tecnologia interviene però il forestale che legge la fototrappola a distanza di alcuni giorni con l'accortezza di non disturbare troppo gli animali ma JJ4 era scaltra e pare anche abbastanza aggressiva e ne avrebbe distrutte diverse i forestali sono riusciti a intrappolarla nella gabbia sono entrati anche due dei suoi cuccioli il prantigrado è stato sedato attraverso il lancio di un dardo di narcotico dosato dai veterinari mentre i cuccioloni sono stati subito rilasciati si tratta di animali di due anni che sono ormai autosufficienti nati nell'inverno del 2021 e come confermano i monitoraggi degli esperti la mamma li stava lentamente allontanando il periodo tra aprile e maggio è infatti quello degli amori e quindi uno dei momenti più delicati per il futuro dei piccoli orsi la mamma è pronta per l'accoppiamento e li allontana per proteggerli così stava facendo anche JJ4 con i suoi due cuccioli ormai indipendenti e pronti a iniziare la loro vita i maschi infatti talvolta uccidono i cuccioli per accoppiarsi precisano gli esperti e allora questi anche gli aggiornamenti sulla cattura dell'orso appunto che ha ucciso il runner in Trentino una notizia che ancora comunque sta facendo discutere proprio per l'ordinanza di abbattimento al momento sospesa dal TAR su un ricorso presentato dagli ambientalisti e dalla Liga anti-vivisezione queste le notizie in primo piano oggi lo abbiamo visto andiamo a vedere ancora però che si parla sul Corriere della Sera anche di economia su due fronti intanto quello difficile il tema del risparmio i titoli di Stato si parla dei botte del grande ritorno che vale il 3% un approfondimento sulle strategie per investire in titoli brevi e poi si parla però anche di tasse perché si parla di dichiarazione dei redditi del nuovo modello 730 addio scontrini e nuove aliquote cosa cambia dalla riforma dell'IRPEF con le nuove aliquote all'assegno unico passando per la rimodulazione delle detrazioni e le modifiche dei quadri dei familiari a carico queste allora anche le novità ma noi ci avviciniamo alla chiusura e quindi torniamo invece anche sul lago di Garda come potete vedere continuano ad arrivare le persone continuano ad arrivare i turisti tanti tedeschi oggi sono appunto una comitiva con cui ci siamo fermati a parlare noi siamo però qui con il signor Giuseppe che ci raccontava di cosa ricordava di questi luoghi qualche anno fa qualche anno fa qui l'acqua arrivava fino a quasi ai gradini quindi molti metri più avanti rispetto a dove ci troviamo non si andava non si andava così all'isola l'acqua potrebbe arrivare anche fino sopra la pancia sul petto quindi qui era un luogo dove si veniva a fare il bagno ma ci si fermava molto prima si 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 è preoccupato in qualche modo di questa situazione ma capita ogni tanto non è la prima volta sebbene i dati anche oggi parlino in una ennesima una nuova ricerca di dati negativi insomma un record negativo per quanto riguarda la siccità e la crisi idrica lei si dice non troppo preoccupato ancora no arriverà l'acqua sempre arrivata e allora le chiedo anche una cosa il turismo secondo lei in questa zona è cambiato è aumentato perché appunto oggi di curiosi ne vediamo tanti per essere una mattinata a fuori stagione questi camper questi non c'erano quindi dice è un luogo che comunque attira sempre i più visitatori si si il lago di Garda attira specialmente gli stranieri per loro è il loro mare questo e sono loro i proprietari di queste zone qua non trovo una macchina che sia italiana e vengono curiosi perché è loro c'è gente c'è gente ecco che viene c'è molta gente anche questo fatto della siccità attira gente perché le immagini ce l'ha spiegato anche il sindaco sono rimbalzate tanto da creare poi un rimbalzo anche economico e quindi dei riscontri turistici perché queste località sono state conosciute anche attraverso quelle immagini che comunque creano qualche preoccupazione oltre a affascinare beh allora se vogliamo mettere il pessimismo sì che preoccupazione però è il ciclo della vita non è la prima volta che il lago si abbassa di due metri e qui sono milioni e milioni di ettori che mancano torneranno adesso i ghiacciai si stanno lasciando andare però fra 50 anni ritorneranno a raggiare pian pianino allora ovviamente io la lascio alla sua visione più che ottimistica la scienza guardate i dati certe volte dice altro però insomma ognuno poi è libero di vedere questa situazione anche bello così anche bello vederlo così e poi l'emergenza idrica nessuno muore di sete l'unica sono le coltivazioni che non gli servono esatto lo abbiamo detto la ringrazio quindi signor Giuseppe noi resurgiamo la linea perché il nostro tempo è finito vi lasciamo appunto con queste immagini con i visitatori che arrivano ce ne sono di più tutti con i pantaloni tirati alle ginocchia perché appunto l'acqua si è alzata e quindi ci si bagna i piedi Anna e quindi dal lago di Garda è tutto grazie a Caterina Zita e ai tuoi ospiti noi siamo arrivati alla conclusione vi ricordo ancora proprio in apertura ora il discorso di Mattarella un po' su tutti i siti Mattarella Cracovia che sta parlando della situazione dell'Unione Europea perennemente instabile se è la somma di interessi nazionali le parole importanti del Presidente della Repubblica durante il viaggio in Polonia noi per questa mattina siamo arrivati al termine la nostra informazione continua a partire dal TG delle 12.30 e TG più Today invece torna domani mattina alle 10.30 grazie per essere stati con noi e buona giornata